Un minuto con Padre Pio, dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci accompagna Padre Marcellino Iassenzaniro con il suo libro, Testimonianze, il padre, il dovere, il dovere del cristiano. Molte volte Padre Pio ha ripreso tanti figli spirituali sul fatto che dovevano manifestare la propria fede innanzitutto con una condotta degna, degna condotta di vita. Circa il Papa invece, Padre Pio non ammetteva neanche una minima mancanza di riguardo. Infatti Miranda Francesco Vinicastro ci racconta, ha raccontato a Padre Marcellino questa storia, un incontro drammatico e nello stesso tempo misterioso proprio con Padre Pio. Mi confessate a Padre Pio e tra le altre cose che gli manifestai anche una mia perplessità. Padre, sono rimasto sorpreso, turbato che Papa Giovanni XXIII abbia ricevuto in udienza in Vaticano a Giubei, genero di Khrushchev, capo del comunismo. Appena Padre Pio lo sentì, lui non finì neanche la frase che gridò come ti permetti di offendere il Papa. Al Santo Padre dobbiamo obbedienza, massimo rispetto, vattene, vattene via. Lui racconta di fronte a quella relazione e gli disse, ma Padre mi assolva, la prego, come faccio a tornare qui? Io vivo in Sicilia, per motivi di lavoro non posso tornare, come faccio? Padre Pio battendo proprio le punta delle dita sull'inginocchiatoio e gli disse, tu qui non ci tornerai più. Ma almeno beneditemi padre, e lui sottolinea, lo supplicai, mi ha benedetto e mi sono allontanato dal confessionale. Uscito fuori, vi ferì le ultime parole di Padre Pio a mia moglie e facemmo le più nefaste congetture su una mia probabile fine, in base a quello che aveva detto Padre Pio. Ne parlai anche col Padre Guardiano, Padre Carmelo, di Donato, che mi rassicurò dicendovi che non era certamente una profezia diretta nel senso della sua interpretazione. Stavo male, lui racconta. Lo stesso Padre Superiore mi consigliò di prenotarmi per una nuova confessione da fare con Padre Pio e di incaricare qualcuno del posto che, seguendo lo svolgersi delle confessioni, mi avrebbe avvisato telegraficamente che si stava avvicinando così il mio turno per essere qui. Così fece, insieme ad un amico mi recae all'ufficio di prenotazioni, apposi la mia firma, partì. Il telegramma però non arrivò mai. Vivevo sulle spine, man mano che i giorni passavano senza notizie, non stavo bene. Mia moglie, vedendo la mia agitazione, mi consigliò di partire per San Giovanni Rotondo senza aspertare ulteriormente. Partì, partì con mio figlio sulla Fiat 500, arrivato sul Gargano, mi recae all'ufficio prenotazioni, ma padre Adiliano Leggeri, che mi mise a disposizione del registro, mi fece notare che il mio nome, la mia firma, non compariva in questo elenco in attesa del colloquio con padre Pio, controllai, constatai che il frate purtroppo aveva ragione, rimasi sorpreso, mi domandai che senso potevo dare a tutto questo mistero, perché? Intanto mi dissi almeno saluterò padre Pio. Mi recai così nella sala San Francesco, dove padre Pio sarebbe passato, allora appena apparve ci siamo messi tutti in ginocchio, facendo così ala al suo passaggio. E quando padre Pio giunse alla mia altezza, si girò verso di me, mi guardò e mi sorrise e disse «hai visto che sei tornato?». Questa frase mi sorprese notevolmente e allo stesso tempo favorevolmente. Padre Pio mi aveva voluto rassenerare sulle mie preoccupazioni di una mia fine imminente, ma riflettendo sulla sua espressione «tu qui non ci tornerai più», ho capito anche questo, che lui intendeva dire che io non mi sarei mai più inginocchiato al suo confessionale per un colloquio sacramentale. È stata quella l'ultima volta che ho visto padre Pio, ma la lezione sul rispetto dovuto alla figura del Papa è sempre fissa nella mia mente.